Sì raga lo so, lo so Ah che palle, che palle C'è assurdo, vi giuro non mi è mai successo che crashasse un gioco, mai Mai successo Aspettate un attimo Allora Stavamo andando così bene, così bene Allora, andiamo un attimo su Twitch Cioè non è durato manco venti minuti sta live, cioè il video di prima, vabbè Un altro TikTok di pulcini Ah ho capito quale dici Quello là Sì Vabbè, comunque Continuiamo Ah qui mi dice tutti i capitoli Madonna, sono parecchi eh Allora raga facciamo una cosa Facciamo Allora su 3 6 9 12 15 15 18 19 19 19 19 Potremmo fare Su 19 Poi potremmo fare 6 capitoli Sì, però mo Vabbè Vediamo quanti ne riusciamo a fa' Giù ma Già sta in live? Beh credo di sì Palle Speriamo che non mi dia problemi ora Eh raga ma se crasha di nuovo io non so che fa vi giuro Cioè perché se mi da sempre questo crash di mer... Wow ma mi stanno a svelenare Non so se hanno bussato la mia porta ma Vediamo Cioè assurdo sta andando così bene Niente Sì sono qui Ok ok No più palle però Ah qui c'è il fucile Che non posso prendere ora Ma stavo pure di qua ho sbagliato Sì Eh cazzo che sono forti Eh ma più o meno è crashato un po' più avanti Vediamo Ma ragazzi è crashato di nuovo e non so che dire Aspetta ma ce ne sta un altro Ah non lo posso prendere Qui ha crashato più o meno Vediamo se mi fa andare avanti Vabbè per ora mi ha fatto andare avanti Vediamo Io vi giuro ragazzi Cioè oddio no mi è mai successo no Mi sa che mi è successo con Cyberpunk Però cioè ma una volta ogni mille anni Cioè Beh poi Cyberpunk Beh c'hai problemi Vabbè quello sappiamo Vabbè per ora stiamo andando avanti Meglio questo Vediamo Vediamo Bella Allora questo è sicuro che c'è qualcosa Eh infatti Ho detto io Aspetta che cazzo è questo libro qua Non serve a niente Qui 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 Nooo me lo potevo fregare Vabbè non fa niente Sotto si può andare Sì Forse me li posso fare tutti i stealth questi Niente Ho ferato Scusa sotto ci potevo andare no? Ma sono un po' confuso Cazzo Questo c'è Oh ma è meno male Cioè questo c'è il pompa in mano Fazio Ecco potevo fare la mossa Vabbè 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 Codiamo la pistola Codiamo la pistola Bam Coltello Pistola No prevesco questo Aspetta Vieni qua vieni qua vieni qua Vai Vabbè Beh questo come me lo prego ma Spesso No Ma come C'è diventato presling ma che cazzo Non ho armi eh mi sa No no ce l'ho ce l'ho Ce l'ho ce l'ho Caccia Ok Oh oh Mistiale Prendiamoci il pompa Questo cos'è? Un cesso praticamente Non so No raga Che è successo Oh mio dio mi sono cagato Adesso Detecca qua Ecco la Si è crashato di nuovo Invece no Vai Reggio Sono cagato Detecca Ha crashato di nuovo Vabbè raga Se crasha spesso Evito Se crasha una volta Guarda Ancora ancora ci sto Cioè dipende tutto dal crash Che? Ah Agate Non l'ha trovato Dio Dormi 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 No straffanculo Bam Qui non possiamo andare Quindi dobbiamo andare Di sotto Qui Potevamo anche non andare Va bene Qualcuno lo stiamo uccidendo Stealth Eh ho sbagliato Va bene No spero di In realtà non è vero Non ho sbagliato Che ora faccio così? Stuck Ecco Uno E due Bam Buttella Cazzarola Oh per il coltello fa male Io sarò la che canta Stanno cercando qualcuno Comunque Da quel che abbiamo capito Stanno cercando dove il mestre Lei è. Deve essere nel templo, con gli altri. andiamo a lì. Passa le vecchie ruine sotto la monasteria. C'è una scuola scuola dietro. Grazie. Find un posto da scuola. Ci sarà pronto. Ok. Ci sta? Ci sta, raga, ci sta. Mmm, ok. Acque torbide. Mmm. Più che altro sto pensando... Certo, sto pensando cosa fare dopo, comunque, il golf. Perché poi non saprei... Eh, raga, purtroppo io, veramente, cerco di portarvi un botto di roba, ma... Sembra che non vi piaccia un cazzo. Cioè, sembra che non piaccia un cazzo a nessuno, in realtà. Cioè, nel senso, porto... Che ne so... Ma, comunque, sono quasi morto. Sono veramente quasi morto. Mamma mia, raga, che culo. Cioè, nel senso, porto una cosa e non va bene. Porto un'altra e non va bene. Cioè, non piace mai niente a nessuno. Cioè, assurdo. Cioè, pensate che ci sono streamer che portano sempre le stesse cose. Scusate. Cioè, le persone non sanno e vogliono. Cazzo, sono quasi morto. Non lo so. Non so, non so, non so, non so. Ahia! Oh! Che cazzo è Iron Man? L'ho aspettato un attimo, perché... Come dovete vedere... È andato tutto a puttane. C'è la pompa. Oddio, forse... Ah, carabina, secondo me. Mi pareti arrivano contro... La precisione è migliorata. Non lo so. No, facciamo pistola a più colpi, vai. Non l'ho preso. Eh? Ma, raga, questo come lo ammazzo? Ah, ok, ho capito, ho capito, ho capito come lo devo ammazzare, dai. Ok. Ora. Eccala. Aspetta. Vedete? Ah, devo tenere premuto la cerchia. Eh, raga, però questi cazzarola, questi sono forti, eh. Questi sono forti. Dove devo andare? Andiamo di qua a sto punto. Aia. Allora... Qui ci stanno che ci stavo guardando. Aspetta, però forse... Prefisco più a prendermi il pompa da questo. E qui non posso fare la capriola. E' meglio, raga, fidatevi. Acqua abbiamo il pompa. Che sennò mi vengono tutti contro. Palle, però che non posso fare la capriola. Raffanculo. Ok, doppia kill. Noi dovevamo andare qua? Eh sì, vabbè, quelli là... Schifiamoli. Ah no, in realtà no. Stanno qui. Cazzarola, madonna. Che dolore. Sono morto. Cazzo. Siamo... siamo crepati. Siamo un po' schioppati. Ma tutto da capo dobbiamo fare. Oh mio dio. Ma perché mi sa che non dobbiamo... Eh sì, mi sa che all'inizio... Mado è che palle, però. Sì, raga, ma è impossibile. Aspetta, 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 aspetta. Che buono. E' questo, raga, che fa male. L'unica cosa che non mi piace è che è lento. Molto lento. Cioè, sono quasi morto. Dammi un po' di vita. Ok. Ecco qua, ma ho acceso il tizio. Eccolo di nuovo. Wow, ragazzi, è assurdo. Sono morto di nuovo. Niente, possibile. Possibile vincere. Ma mi toglie un sacco di vita appena inizio. Wow, che palle. Ma... Partiamo proprio male. Dai, dai, abbiamo tre colpi di... Di pompa. Però è strano, tre colpi. Ma non ce ne avevano... Non ce ne aveva due colpi. Questo mi toglie un sacco di vita, quindi... Aspettiamo, si gira. Ma sandomi mi sgama lo stesso. Oh no. Posso. Tolti dalle palle. Vai. Vediamo se Dio ce la manda a buono. Per cui dobbiamo stare attenti. Ah, che abbiamo ammazzato quello che rompe più i coglioni. Come stiamo... Ah, stiamo senza arma. A posto. Traffancuro. Qui c'è qualcosa di utile? No, c'è niente. Aspetta. Ora. Buono. Ma non so se dobbiamo... Scendere. Lo vedete. Che schifo. Due colpi. Ah, veramente mi ha salvato. Prendo l'altro. Uh, dodici colpi. Quazzo, questo fa male. No. No, no, no. Aspetta, se qui si sale, no? Sì. Non so. Prima come ha fatto... Vabbè. Non ci facciamo la domanda. Bam. Aspetta. Guarda, i colpi su quelli. Oh, non mi ha visto. Che culo. Aspetta, non prevesco questa. Intanto c'è colpi. Sì. Beh, 10 colpi su buoni. Ok, terzo salvataggio. Non mi ha sentito il tizio. Indici colpi. Prendo questo. Madonna. Madonna. Aspetta, 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 aspetta. Aspetta, 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 aspetta. Fermati. Ok. Cazzo. Uomo, questo si è rotto. Finalmente. Vai. Ok. Però ma stiamo senza... Ah no, c'è un'arma. Quindi stiamo senza arma. Invece ce l'apriamo. What the fuck? C'ho capito niente, giuro. Qui si sale. Ah no, dobbiamo andare di qua. Eh, ma qui mi sa che c'ho qualcosa, eh. No. C'ho... No, sta dietro. No, io ci vado, ragazzi. Cazzo, non mi frega. Tanto sta qua vicino. Eh, vedete. Ti ho fatto nei primi? Ok. Ah, fine. Fine, 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 fine. Mia sorella che canta, managgia. Andando giù nelle fiamme. Ma io direi se facciamo... No, perché non voglio fare tutto ora. Però se facciamo sei livelli... Sono sei, dodici, diciotto. Ovviamente sono diciannove, quindi dobbiamo fare uno in più. Ma vediamo. Sì, se a me ci sta. Ci sta, ci sta. Sì, magari facciamo tre live, poi se riesco inizio con minigolf a fine settimana. Magari rifiniamo entrambi. Madonna, peate, questo fa male. Questa sta girata. Se non canta, non è lei. Eh, no, infatti, mamma mia. Cioè, ma poi, ti giuro. Cioè, ci sono stati periodi dove non cantava per niente. Ma... Mo... Mo... Mo canta, rompe le palle. Poi dico io, no, cantasse bene. Allora, vabbè, uno ti ascolta pure. Ma canta pure di merda. Ma ho 14 colpe, onestamente. No, eh, manna scamata. No, comunque questo gioco è veramente molto carino, eh. Di tu che ne pensi? Cazzo, eh, questo non mi fa male, eh. Mamma, l'ho fatto male. Aspetta. Ho ammazzato quello più rompipalle. Mi piace. Sì, anche a me. No, madonna, mi sono cagato addosso. Tecco di nuovo e crasha. No, ma... Che cazzo è sta roba? Ah, il martello, tipo. Cioè, io quando vedo che si blocca, mi cago addosso. Dico, ma non crasha. Ah, dobbiamo ammazzare tipo tutti. Aspetta, aspetta, vieni qui, vieni qui. Vai. Quasi mi inviglio pure la vita. Aia, c'è la madonna. Qui funziona, vediamo. No. Oh, cazzo. Aspettate, eh. Oh, vieni. Ma arrivano altri. Sì, infatti. Sì, è tipo una parte dove escono tutti i nemici. Non riesco a prendere nessuno, praticamente. Ho capreso. Questi sono forti, ragazzi. Sì, vieni qui, vieni, 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 vieni. Vai. Vai. E di nuovo Iron Man? Allora, Iron Man non è difficile da battere. Però, aspetta, stanno pure questi. Quindi è un po' più complicato. Eh, vedete, perché stanno insieme. Non è proprio così. Eh, il posto stronzola pure è là. È là. Eh, Iron Man non so se lo posso ammazzare. Mi sa che questo non viene. No, si ferma. No, si ferma. No, che sta venendo. No, non lo puoi ammazzare. Non lo puoi ammazzare lì. Sarà tosta, eh. Aia. Sto prendendo danno. Perché lo ammazza subito. Eh, raga, ma senza arma è impossibile. Cioè, come cazzo fai? Oh, veramente. Dammi vita. Beh, mi ha dato un bel po'. Ehm. Accato che non ho armi. Questo mi sa che ce l'ha, però. No. C'ha l'arma. Questo sì. Questo c'ha la pistola. No, c'ha la mitra. Ehm. Presa. Sì. Spero che non si senta. Cioè, io me la sto sentendo. Proprio un botto sta cantando. Eccala. Usa la pergamena. Oh, li ho ammazzati. Oh, e che cazzo. Bam. Bam. Bam, stammerà. Eccala. Guarda come sta a fa' danno. Eccura mi prendo danno. Perché ovviamente mi amaffa la combo. Eee. Bella questa. No. Bella. Ci siamo visti. Mamma mia. Meno male. Cioè, meno male che c'avevo il pomba. Mamma mia. Questo non è stato... No. Shotavano no, però. Mi avrebbero fatto un bel po' di male. Non è un problema. No. Toca, non è una genoma. Kuno è stata una resistenza. Come ora però ogni lungo стало una resistenza di joubatta. Come ora diissance. Ovio è bullyingly. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Aspettate. Ok. Sì, mi sarebbe che sta andando a cantare in tutto ciò. Ammazzata a quello, sì. Madonna. Il rumore del fuoco mi rilassa. Questo rumore qua è tipo di legno bruciato. Non so, è rilassante. Niente, un po' morì questo. Mortacci su. C'è sto rumore. Bello. E voi morì, madonna. Niente. Ah, finalmente. Sì, è bello. Sì, è molto rilassante. Aspetta, aspetta, aspetta. Eh, vedete. Questo scemo. Perché qui... Ah, non posso andare, ok. Mi sa che c'è qualche boss, eh, però. Dovremmo potenziare, eh, però. Mi sa stanza da boss, eh, questa. No, ma ci sono mai... Ah, ma è un boss. Eh, raga, non riesco a vedere la vita. No. No, che cazzo fai? Uh, brutto, po'. Dai, a questo... Cazzo. Oh, però sto sdelenando a sto scemo. Scemo, tu mangi gomma, gomma. Eh, non ho più l'arma, ma. Madonna. Ho sdelenato di pugni. Ma, raga, senza arma è impossibile, cioè. Ma, raga, è impossibile. Devo aspettare il momento giusto. Ora. Devo fare qualche piccolo... Danne! Niente. Mi sa nemmeno quanta vita abbia. Aspettare. E' morto. Eh, non posso vedere, raga. Ah. C'è, bello, ma mi vogliono sparare. Che pezzi di merda. Cioè, non ha senso, l'ho menato... Bah, vabbè. Non c'è senso. Siamo al sesto? Ha crashato proprio. Ha crashato, volete vedere? Ah no, salta. Ah no, sono sedativi, tipo. Non so. Cioè, non c'è senso, non c'è senso. Io pensavo che era il smartman, ho sempre accordato su tutto ciò che ha detto E pensavo che avresti avanti la stessa storia Era il più giusto che ho mai avuto con la famiglia Ma con tutte le sue smarts, Bearcourt non mi potrebbe convincerti di seguirli questa prima volta Ora è chiaro che non è finito con me ancora Va, vabbè Madonna Ma che cazzo è sto coso? Ma che cazzo è sto coso? Ma non sono umani No, non ho capito questa parte, scusate Vabbè No, raga, ma non sono umani Cioè Bam Bello Io ho aperto la strada per menarmi Cioè non sono umani Che cazzo sono ste cose? Boh E li ho mennati tutti e due Oddio, lo sapete, mi ricordano molto le best che si trovano in... Oddio, come si chiama quel gioco? Eh, Dismantle Che ho pure finito, mamma mia, che ha Dismantle Quanto cazzo era lungo Però ho finito solo la storia principale Perché... Cioè Fare pure le secondarie Proprio da... Da... Da suicidio, tipo Comunque l'assenza è bella pienotta, eh L'hanno aggiunta dopo per... L'hanno... Giù hai scritto l'hanno senza... La... Qua potrebbe essere... Però non ha molto senso Cioè fatto... Vabbè Non so, mi lamento per ogni cosa Però... Sì Chi va? Ok Cazzo è questo? Bastone? Cazzo ne su! Io spero solo che sto andando... Yup Fidati Ok, mi fido Mi fido, mi fido Ah, ma le bantini su qua Vabbè Non sono tanto forti, eh Questa è l'unica fortuna Bestie Per la madonna Oh mio dio Mi sono cadato di nuovo addosso C'ho sempre quel timore che... Che crashi Anche se vabbè Non... Non so quanto continueremo ancora Ci ho detto che volevo fare 6 capitoli Però... Vediamo Ok Eh... Ci sta Oh... Aspetta... Lo... Lo leggo tra poco Aspetta... Se lo leggo ora Quando aggiungi un test A volte c'è un massimo di carte Che puoi aggiungere Se io so vedevi che era un'altra che ha testa Mmm... Potrebbe... Potrebbe... Aspetta, aspetta... Potrebbe avere senso, eh Potrebbe... Potrebbe perché non lo so Deve entrare quando si gira Ora... Vai Vai Se provi a metterlo sulla stessa riga Ma non lo allinei Ti viene assorto Molto acculturata Ho 4 colpi c'ho Minchia Cioè, calcolate che dobbiamo ancora trovare l'arma al plasma Ma probabilmente la troviamo a breve Ecco, vediamo le bestie Schioppate Nooo... Ah no, l'ho ammazzato uno Cioè, oddio Aspetta, ma qui è da roba? Non pressione Lo potevo ammazzare a stelto, vabbè Sam Ok Bam Editavo... E dovevo mettere il testo sui video Per questo lo so Giusto, giusto Non hai tutti sorti In effetti Perché non posso andare avanti? Perché forse deve arrivare qualcuno? Probabile Beh, la stanza delle mazzate è questa Allora... Allora... Dio, però, velura Onestamente Qualche upgradeino lo farei Però non capisco perché non va Qualcuna cosa... Oh, ecco il pugno Guardate qua Bam 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 Bellissimo Che non si apre? Che non si apre? Ma come va davanti? Ora ci posso andare Oddio Oddio, perché questo di quest'altro... Cioè, perché di quel colore Mi sa che è più forte degli altri quello Cioè, questo qui Tipo... Russo Non so se lo vedete Questo è proprio russo Russo Boh, è morto Una merda Facciamo la pistola Tanti colpi li ho Vabbè, ma tanto non mi serve sta roba Uh, che ho inglese? Ma raga, però è pieno di sti cosi Bam Ma che cazzo... What? Cioè, cammina va... Tipo... Vabbè... Non faccio domande Dai, vai, facciamo con le mani, vai La cosa più bella è il calcio Il calcio... Veramente forte Però sono parecchi Devo ammettere sono parecchi Non so se potremmo forse skipparli Sì, vabbè, però mi piace da ammazzare questo gioco È divertente Cazzarola Senza andare a... Perdere vita Cioè, a questo punto però riesco a andare a mani nude Eh, vedete, vedete Pure senza... Tipo senza... Senza gambe Comunque continuano ad ammazzare Mi sa che siamo arrivati alla fine Quanti cazzone su... Aspetta... Ci prendiamo un po' di vita Eh sì... Quanta vita ci dà? Raga, non ci dà un cazzo Ma non un po' Pochissimo Dove si ammazza con la pistola Andiamo Oh oh, cazzarola No, ragazzi Ma che cazzo è questo? Eh, quello di... Ma sono due Aiuto Raga, ma li posso ammazzare questi o no? No, raga, ma fanno paura Eh, mi sa che non posso fare un cazzo Non posso fare un cazzo Mi cazzo l'ammazza a questo Raga, è impossibile A parte che... Madonna Fa veramente schifo il bassore Ma sbaglio uno l'ho ammazzato Eh no, mi sa che uno l'ho ammazzato Oh Aspetta... No, l'avevo ammazzato però Ma non vale Ma raga, ma... Ma che cazzo? Mi sa che non le posso ammazzare a mani nude Morto Mamma mia, è tostissimo Eh, mi sa che c'è gente però Infatti Vassili... 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 Voglio aiutarti Aiutami 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 Ho scoperto il sistema di sicurezza in tuo blocco E' così come hai scoperto Che vuoi? Ho bisogno di fuori questa linea ora Se vuoi liberare gli altri monchi Devi andare alla sectione alpha Mh... 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 Sì, se no mi ci sta Vai Però Prima Io devo capire una cosa Ah, qui... Ah, ok Allora, qui due Sì, ma perché non va? Questo non capisco Ah, per la pistola e per la carabina Ah, raga, ho capito Allora Gli oggetti dell'angelo cosa... Ok R1 No Puntatore laser Ah, questo è buono Qui ne ha uno Uccide di minici con oggetti dell'angelo Ok, stiamo a due Qui niente Qui ne abbiamo uno E mettiamo Calcio del drago Qui ne abbiamo due Colpire più un bersaglio cosa Mh... L'ultima colpa prima della trattura a casa Da danni doppi Vai Aggiungi un colpa alle... Mh... No Mh... I colpi letali delle armi di storia Ah, questo è buono Ehm... Silenziatore Questo sì Questo non ho niente Qua, vabbè, raga, mettiamo questi due Fine Ok, ma siamo belli pienotti Non abbiamo armi Va bene Forse ce la prendiamo da lui Si No, ma hanno sgamato Oh, cazzo Siamo inculati Ah, non è morto in realtà Fanculo BAM Qua Noto che sto facendo molti più danni Eh Rispetto a prima faccio molti più danni Sì 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 Qui c'è Qui c'è Uno Aspetta, qui non posso passare Dove devo andare, scus? Ma di qua No, ma sono scemo proprio Ma aspetta, ma questa è l'arma al plasma Ma Sembra la stessa arma No, mi sa che forse questa è l'arma al plasma Vediamo No, scherzavo Ah, no, è la SMG Carina Qui c'è un segno di un'altra arma Non ce la prendiamo da lui Vai No, finiti colpo Allora andiamo avanti Vabbè Non so come sia possibile Uuuu Ma i calci che da fanno proprio paura Aspetta No No Ma non mi ha preso C'è un colpo Lo spreco E' inutile Allora No Pockabone E' inutile Non muore Pure da terra Oh, aspetta Madonna Stanno a sdelenasti qua Ascito No No Andiamo avanti E mi hanno sgamato Però se torno indietro non mi vedono E non ho armi, raga Ora Ora Oh, questo c'ha l'arma Buono, è morto Cosa fa male, raga Ok, qui non c'è niente Quindi direi che andiamo avanti Ma il pompa è troppo forte, raga L'affronza delle bestie Perfetto 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 Dopodoro Ammazzata subito Perfetto Oh, ca... Oh, mio dio Oh Vabbè, meno male che stai Vabbè, però è pieno di... Pieno di... Pieno di armi Ma è morto Figurati Ma è morto? Si C'è sta un'altro Morto? Si Meno male, raga Ehm... Però non ho... Rotola Non ho capito, raga Vabbè, ma... Come devo fare per andare avanti? Ah, di qua Ok C'è sta la palestra Questa la ammazza così Cioè, non mi ha sentito questo, assurdo Sentito i colpi Proprio il rischio Qua era un boss entrato Cazzo... E lo sapevo Cazzo... Morto No, è calma No, è calma Dammi l'arma Dammi l'arma Dammi l'arma Dammi l'arma Mi stanno a fare un botto di male Oh oh, questo è quello potente Cazzo, aspetta, 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 aspetta Vai No, niente Oh, quasi morto Let's go C'è crepato Meglio questa 40 No, ragazzi Oh, finalmente Let's go Mi ha dato pure un bel po' di vita Mi sa che abbiamo finito il livello Sì, sì Sì Oh mio Dio Mi sa che stiamo al... L'ottavo ora Ottavo Ecco, vedi, pure qui c'è scritto giù per il sentiero Ma è scritto con la U in modo strano Giù per il sentiero delle... Primule Mamma Mamma Non so se sto andando... No, aspetta, aspetta, vediamo. Vediamo che sto sbagliando il strato, ma credo di no. No, invece... Madonna, questo fa male. Sì, mancano giusto altri due e abbiamo finito. Peccato che è crashato, perché sennò facevo tutta una tirata, vabbè, va niente. Non è stato in te, cambio. No, questo è quello forte. Aspetta, spegni qui. Bam. Qui. Spegni qui. Bam. Grazie. 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 Grazie.